Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale. Un'emozionante notizia ha fatto il giro dei social, suscitando grande commozione tra i fan. Attraverso una toccante storia condivisa, il protagonista del popolare dating show di Canale 5 ha rivelato la sua profonda sofferenza per una perdita devastante. Le sue parole hanno colpito duro nel cuore di tutti coloro che lo seguono. Parliamo di Jack Vennel, conosciuto come uno dei protagonisti di Uomini e Donne, lo show di successo condotto da Maria De Filippi su Canale 5. In un annuncio straziante sui social, Jack ha condiviso una storia molto personale, svelando che recentemente ha perso una persona molto cara in un tragico incidente. Le sue parole hanno raggiunto il cuore dei fan, mostrando il suo dolore e la sua lotta per affrontare questa dolorosa scomparsa. Nonostante il fatto che di solito non condivida notizie che non riguardano direttamente la sua vita. Questa perdita è così profondamente personale che ha sentito la necessità di aprirsi con i suoi sostenitori. Come opinionista del programma di Maria De Filippi, Jack ha dovuto affrontare il difficile compito di dire addio a una persona a lui molto vicina, una figura importante nella sua vita. La morte improvvisa e tragica dell'amato individuo ha scosso profondamente il suo mondo. Le sue parole sui social mostrano l'intensità del suo dolore e la difficoltà nel fare i conti con questa perdita. Oggi si è tenuto il funerale, un momento di commiato per l'amato scomparso. Jack ha voluto condividere questo momento con i suoi fan, ringraziandoli per il sostegno e l'affetto che gli hanno dimostrato in questo periodo così difficile. La sua storia ha continuato ad emozionare e ha fatto sì che molti si unissero a lui nel suo dolore, offrendo parole di conforto e solidarietà. In questo momento di profonda tristezza, i fan di Jack Venno e del programma Uomini e Donne si sono uniti nel sostegno, dimostrando l'importanza della comunità e dell'affetto reciproco anche di fronte alle avversità più dure. Le parole di Jack rimarranno un tributo a quella persona cara scomparsa. E la sua forza nel condividere questa esperienza difficile ispirerà molti altri a superare le sfide che la vita può presentare. Iscrivetevi al nostro canale e attivate la campanella per rimanere aggiornati su tutti i futuri contenuti.